E' qualche cosa di cui abbiamo bisogno per far viaggiare più veloci e più sicuri i nostri cittadini, per far viaggiare più veloci le nostre merci perché quando escono dal cancello della fabbrica non debbano fermarsi e subire. Brebemi, Pedemontana e non solo trasformeranno la viabilità in Lombardia e da tempo lo si chiedeva. Sono grandi opere che finalmente porteranno la Lombardia al livello delle grandi regioni europee e quindi oggi celebriamo la vittoria di tutti i cittadini lombardi perché abbiamo amministrato secondo la loro volontà per fare un'opera indispensabile nel modo che influisse il meno possibile come ferita sul territorio e invece valorizzasse tutto il territorio. Pedemontana che riguarda molto da vicino anche il nostro territorio visto che ad est si innesterà sull'A4 all'altezza di Osio Sotto. Credo che entro la data dell'Expo noi veramente ci ritroveremo delle opere che stiamo aspettando da oltre 60 anni che cambieranno in meglio tutto il nostro territorio.